Una prestazione generosa non basta al Chieti per fare per la prima volta punti allo Stadio Angelini, che presenta il solito di questi tempi, desolante scenario. In terra teatina passa la San Maurese, che al terzo tentativo contro un abruzzese riesce a sorridere dopo le sconfitte di misura con San Nicolò e Vastese. La partita giunge al culmine di un'altra settimana complessa per il Chieti, passata per la lettera minatoria, anonima, con tanto di proiettile indirizzata al presidente Giacomini, anche oggi assente all'Angelini, e al tecnico Mariani, e con la squadra che per un paio di giorni non si è allenata. Lo stesso Mariani recupera Viscido e Albenese, entrambi nell'undici titolare. Nella San Maurese il trainer Protti sceglie Giulianelli al posto del colore portoghese Ninte. In apertura subito l'episodio che decide la partita. L'arbitro Carina Vitulano di Rivorno punisce con un calcio di rigore il fallo di mano, molto dubbio, di Aidini su iniziativa di Giulianelli. Degli undici metri va a Scarponi che insacca. Il primo tempo non è granché. All'ottavo russo dalla sinistra impegna Gori. La frazione però scorre senza sussulti. Il Chieti è provato dallo svantaggio, ma la Samorese non ne sa approfittare e se ne sta anche troppo sulle sue. La ripresa è più vivace e al secondo minuto proprio l'autore del gol, Scarponi, va in percussione sulla sinistra, ma Ronchi dice di no. L'estremo teatino poi ringrazia la buona sorte al quinto, quando Peluso, il più talentuoso tra i romagnoli, centra in pieno il palo. L'episodio scuote il Chieti che tira fuori l'orgoglio e cerca il pareggio anche con l'innesto di Alessandroni al posto di Biondo. Al dodicesimo, al ventiduesimo, Faella si invola dalla sinistra, taglia verso l'area avversaria e fa partire un diagonale che finisce di poco a lato, alla sinistra di Gori. Tre minuti dopo punizione dal limite per i neroverdi. Se ne incarica Ceccarelli, ma Gori è molto attento e salva in calcio d'angolo. Un minuto dopo la Samorese risponde con Pieri che si incune in area, ma la sua conclusione lambisce il montante della porta difesa da Ronchi. Doppio cambio alla mezz'ora, Arcaleni e Botticini per Aidini e Ceccarelli, ma i pieni di rimonta del Chieti subiscono un duro colpo per via del rosso diretto estratto ad Albanese, reo di aver scalciato volontariamente un avversario. Chieti in dieci uomini, ma che non crolla neanche davanti all'azione personale del neoentrato Sartori, Botticini salva ridosso della linea. Le ultime speranze neroverdi svaniscono con il colpo di testa di Faella su angolo di Arcaleni, finisce 0-1, risultato che ridà l'infa alla classifica della Samorese. Del Chieti non si può che apprezzare l'abnegazione del gruppo, pur in una situazione sostanzialmente irreversibile. Un calcio di rigore al primo minuto potevamo andarci via dal campo, invece questi ragazzini sono stati dentro, ripeto, trascinati da sto ragazzo che sta qui con me e non hanno mallato un attimo, credo che meritavamo assolutamente il pareggio, che purtroppo non è arrivato. Però onore a loro perché la maglia l'hanno sudata sempre e oggi in particolare. Ed è chiaro che non possiamo più permetterci di andare dentro con questo organico, perché abbiamo dimostrato che questo organico, ripeto, purtroppo, per quanto tutti abbiano dato sempre tutto, non basta per questo campionato. Vediamo se riusciamo a sapere qualcosa, vediamo un po' se riusciamo a sentire qualcuno che ci dice come e quando andare avanti. Per forza di cose devono arrivare forze fresche, forze forti e soprattutto menti fresche. Venivamo da due partite eccellenti, i ragazzi avevano giocato bene, benissimo, abbiamo raccolto niente a Teramo e in casa con la Vastese. Oggi abbiamo sbloccato subito, poi siamo consci di aver rischiato poco, però secondo me siamo abituati a fare di più, a fare meglio. Sappiamo come dobbiamo fare, i ragazzi sono stati bravissimi lo stesso, era una partita che la sentivano tanto perché venivano da due sconfitte. Niente, non abbiamo gioito neanche più di tanto perché ci piace gioire anche quando giochiamo bene, però sappiamo come fare per riniziare a giocare.